Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale, potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Incredibile ma vero, tra Gianni Sperti lo ha fatto davanti a tutto il pubblico di uomini e donne e scattato il bacio. In queste ore il programma è scosso dall'addio di Manuela Carriero che ha deciso di abbandonare il trono prima della scelta finale per un semplice motivo, i fatti le hanno dimostrato che nessuno dei due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, era realmente interessato a lei. Per questo era del tutto inutile rimanere. E ancora prima si era parlato di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Tra i due sembrava che stesse procedendo tutto nel migliore dei modi, come hanno raccontato anche nel corso della loro ospitata di settembre scorso a uomini e donne. Avevano raccontato al pubblico dei loro tanti viaggi fatti insieme nel corso di questi mesi di fidanzamento e di amici. essere pronti anche per intraprendere la convivenza. A Salerno, da lui. Giusto il tempo di far finire la scuola al figlio di Ida Platano e il trasloco da Brescia sarebbe iniziato. Poi qualcosa si è inceppato e tutto è tornato in discussione. Ora a discutere c'è il gesto di Gianni Sperti che, rivelano le anticipazioni, ha baciato Roberta di Padua. Roberta che pochi giorni fa aveva minacciato di andarsene per una ragione semplice. I cavalieri sarebbero troppo poco intraprendenti, troppo mosci e non interessati ad instaurare una frequentazione seria con le dame. Questi non fanno niente, non hanno voglia. Aveva urlato prima di prendersela con il ragazzo con il quale è uscita di recente. Possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz staccappottato? Tina Cipollari e Gianni Sperti avevano dato un po' ragione a Roberta. I cavalieri sono tutti da sostituire. E ora Gianni ha deciso di intervenire di nuovo. Gianni, infatti, ha baciato Roberta per un motivo preciso. Ha deciso di lanciare una provocazione a tutti i cavalieri del parterover per dimostrare come un cavaliere deve comportarsi per conquistare una dama. Con decisione e senza esitazioni.